Paap Mogo So Yo Paap Mogo So Yo Paap Mogo So Yo è un saluto coreano molto diffuso fino a qualche anno fa letteralmente significa avete mangiato oggi infatti dimostra la preoccupazione dei coreani per la propria salute sappiamo che la Corea del Sud ha attraversato una profonda crisi fino a qualche anno fa però oggi è diventata una potenza globale nell'ambito dell'industria e della tecnologia per me nella mia esperienza coreana Paap Mogo So Yo yo è il simbolo che le crisi non solo si possono attraversare ma ci possono rendere molto più forti però come si fa? sono anni che studio crisi a livello della società, delle organizzazioni e personali e uno dei motivi che mi sono appassionato a questo tema è, come si dice a Roma me la sono un po' cercata ho cambiato otto paesi in dodici anni ho cambiato tre professioni quindi ho dovuto reinventarmi e ricominciare da zero molte volte e alcune di questi cambiamenti hanno portato delle crisi altri cambiamenti invece sono avvenuti grazie a delle crisi quindi oggi vorrei parlare di voi di crisi personali di come attraversarle trasformarle, ripartire che cos'è una crisi personale? è un periodo della propria vita dove sentiamo una profonda energia negativa all'interno di noi che è spesso riconducibile a un evento a una persona addirittura una frase nell'ambito del lavoro la tua performance non è buona o sei licenziato nell'ambito dell'amore non sono più innamorato di te lasciamoci e nell'ambito della famiglia o dei amici ho un problema di salute e mi devono operare quindi vorrei chiedere a voi qual è stata la vostra ultima crisi qual è stato quell'evento o quella frase che l'ha generata? Fatto? se ancora non l'avete trovata per favore venite voi la prossima volta a parlare di come non avere crisi questa è una delle crisi più significative della mia vita quello che vedete è il geyser del lago di Ginevra il simbolo della città di Ginevra ma anche il simbolo di cui mi sentivo a Ginevra infatti stavo al top della mia carriera ma mi sentivo che stavo in caduta libera nella mia vita personale infatti due anni prima ero riuscito a entrare subito dopo laureato in una delle più grandi multinazionali dei beni di largo consumo era il mio sogno ideale dopo due anni ero riuscito a farmi trasferire negli headquarter nella sede europea di questa società e ero contentissimo ma dopo alcune settimane le cose non sono andate come pensavo infatti ho avuto molte incomprensioni con il mio capo con cui non ci trovavamo era molto esigente il marchio per cui lavoravo era in profonda crisi quindi dove c'era molta pressione dall'azienda e non ero riuscito a inventarmi a Ginevra e quindi ho reagito nell'unico modo che sapevo lavorando più ore ma le cose non sono migliorate tanto infatti lavorando più ore ho cominciato a avere meno tempo libero meno per gli amici ho cominciato a mangiare mare dormire male lavorare male diventavo meno produttivo e quindi dovevo lavorare più ore ero entrato in questo circolo vizioso da cui non sapevo come uscire l'ero arrivato a pesare 99 chili e a piangere alcune volte prima di andare a lavoro tanta era l'ansia prima di arrivare poi un evento fortuito drammatico che mi ha costretto a letto per dieci giorni e per la prima volta ancora mi ricordo per la prima volta che ho aperto l'email del lavoro quei dieci giorni li ho dedicati a me a capire la mia situazione perché mi sentivo in questa maniera a capirmi meglio e quando sono tornato a lavoro ho cominciato a parlare con altri colleghi che avevano lavorato con il mio capo che lavoravano per altri marchi che erano simili al mio che avevano molta pressione e ai colleghi oltre anche che si erano appena trasferiti a Ginevra e ho cominciato a chiedere a loro ma voi come fate? cosa provate? e con il mio stupore le loro risposte erano diverse da quelle che mi aspettavo infatti riconoscevano sì la mia ansia la mia crisi le mie difficoltà però loro avevano reagito in maniera diversa vedevano in queste difficoltà un modo per imparare di più perché a loro piaceva il loro lavoro e quindi forse mi è venuto il dubbio che il problema non era il contesto non era nel mio capo né l'azienda né Ginevra forse forse il problema ero io perché stavo reagendo in questa maniera perché gli altri reagirono in maniera diversa e quindi ho cominciato a cercare qual era il vero problema qual era la vera causa e ho fatto questo esercizio l'esercizio dei valori ho preso una tabella con tutti i valori e le cose più importanti della vita e ho cominciato a sottolineare tutte quelle più vicine a me e le ho messe in ordine e questo esercizio mi ha fatto capire già molte cose della mia situazione infatti avevo preso questa carriera anche perché mi dava sicurezza economica e sicurezza sociale il famoso contratto a tempo indeterminato che molti italiani cercano nel suo tempo era anche quello che faceva piacere alla mia famiglia e che mi avrebbe dato la sicurezza per creare la mia famiglia ma il mio vero il mio valore principale era la passione e alla domanda ero appassionato di quello che facevo la risposta banalmente era no una seconda domanda mi ha aiutato ma voglio fare il lavoro del capo del mio capo perché come sapete in azienda una delle motivazioni per lavorare tanto è per essere promossi e per fare il lavoro del proprio capo per lavorare ancora di più e diventare il capo del proprio capo e questo processo se siamo fortunati dura anni e quindi è una domanda importarsi da fare dopo questi anni sarò contento di fare il lavoro del capo del mio capo e la risposta banalmente era no quindi questi due esercizi tra gli altri mi hanno fatto capire che il vero problema è che non mi piaceva più quella carriera e quindi ho esplorato nuove alternative e ho deciso di fare un dottorato mi sono lavorato a Parigi con la soddisfazione dei miei e della mia questo mi ha portato poi a insegnare a Helsinki e a Seguil dove insegno management e sono specializzato in gestione delle crisi questa invece è una delle mie ultime crisi 25 marzo 2019 due mesi fa e mi ricordo bene questa data stavo a letto guardando il soffitto della mia camera in piena energia negativa ed è condizionata dalla parte sentimentale lavorativa professionale anche familiare e quindi ho fatto l'esercizio che vi ho detto prima di capire qual è il vero problema però questo per capire il vero problema ci vogliono alcuni giorni alcune settimane anche per prendere delle decisioni e nel frattempo abbiamo questa energia negativa non so se vi è mai capitato di stare a letto di non avere la forza neanche di andare a lavoro o di vedere degli amici e quindi la domanda è come gestire questa energia negativa che proviamo e uno dei motivi per cui l'abbiamo è perché la mente alcune volte è la nostra migliore amica ma alcune volte diventa la nostra peggiore amica come degli studi di psicologia ci dicono infatti la mente va a rivivere quella persona quella frase milioni di volte cercando forse una soluzione che comunque ormai è inutile e ogni volta che pensiamo che abbiamo questo pensiero negativo abbiamo un'altra ondata di energia negativa dentro di noi e quindi per gestire questa energia forse dobbiamo gestire i nostri pensieri il discorso silenzioso che abbiamo all'interno della nostra mente il nostro percorso mentale e questa è una tecnica che ho utilizzato creare il pensante d'aiuto cioè selezionare una ristretta cerchia di amici o familiari che sappiamo ci possono aiutare per questa crisi specifica il pulsante aiuto quindi è una metafora il pulsante che possiamo spingere la telefonata che possiamo fare per nei momenti in cui siamo particolarmente tristi e parlare con un'altra persona ci aiuta a dare una nuova prospettiva e a cambiare il nostro percorso mentale questa volta ho fatto una cosa diversa anche ho utilizzato un percorso un pulsante di aiuto social o virtuale infatti seguivo da molti mesi due gruppi di sviluppo personale e ho visto che negli ultimi mesi le persone cominciano a pubblicare richieste di aiuto e consigli sul libro o suggerimenti per come gestire meglio il tempo come gestire lo stress come perdere peso come gestire un collega che non ci piace o come andare avanti dopo la fine di una relazione d'amore e quindi ho deciso anch'io di mettere la mia domanda ho ricevuto più di 120 commenti e il fatto che degli stranieri le persone che non conoscono avessero investito del tempo a darmi dei suggerimenti mi ha fatto sentire meno solo con alcune di queste persone poi siamo sentiti in privato e ci siamo aiutati a vicenda a superare questa crisi e ho avuto anche una serie di libri di audio e di video che ho cominciato a leggere ascoltare e vedere che mi ha aiutato a capire qual è il vero problema e a superarlo questa invece è una seconda tecnica che ho utilizzato la tecnica della tavola dei desideri la tavola dei desideri è quell'immagine che vedete di fronte il mio letto quell'immagine è semplicemente creata con una slide di PowerPoint l'ho divisa nelle quattro aree per me più importanti della vita per voi possono essere diverse l'amore le finanze la carriera e la salute e poi sono andato su Google Pinterest e Instagram a cercare delle immagini di come volevo sentirmi in quella particolare area della mia vita e quindi nella parte dell'amore voglio sposarmi avere tre figli e avere una relazione con cui c'è intimità complicità e gioiosità nell'ambito delle finanze voglio raggiungere un equilibrio e la cosiddetta financial freedom libertà finanziaria nell'ambito della carriera ho messo tutte le riviste accademiche su cui voglio pubblicare i premi che voglio vincere come professore i libri che voglio pubblicare e anche quanti followers nei social media voglio avere e nell'ambito del saluto ho messo tutte le immagini di come vorrei vedermi e di come vorrei sentirmi quando mangio una volta creata questa tavola dei desideri l'ho stampata in diversi formati e l'ho messa nei posti nei luoghi dove passavo più tempo in camera da letto in soggiorno in ufficio e l'ho messa anche come cover del mio cellulare e ogni volta che la mia mente mi voleva fregare e mandarmi nel passato io cercavo di fregarla e di mandarla invece nel futuro nei miei desideri di come volevo sentirmi non di come mi sentivo e mi focalizzavo su tutta questa immagine e soprattutto su un numero 79 che cos'è 79? 79 è un mio obiettivo l'obiettivo del mio peso che ho da tantissimi anni vi ho detto nella mia crisi di Ginevra ero riuscito a arrivare a 99 kg a sfiorare i 100 però ero perso tantissimo peso ero arrivato a 82 però non ero mai riuscito a arrivare sotto gli 82 kg e nel 25 marzo 2019 due mesi fa pesavo più di 90 kg e quindi mi sono detto voglio utilizzare tutta questa energia negativa per trasformarla in un mio obiettivo un obiettivo che ho da tantissimi anni e quindi riuscire a raggiungere 79 kg entro il 25 maggio cioè oggi e quindi da bravo ingegnere che ho fatto ho creato un grafico ho detto quanto devo perdere di media ogni settimana per raggiungere questo obiettivo e sono riuscito a perdere quindi intorno al 20 aprile pesavo sugli 83-84 kg quindi avevo perso già tanto però sappiamo gli ultimi chili sono più difficili da perdere e poi ho smesso di pesarmi per un po' di tempo e oggi vorrei condividere con voi questo momento sono riuscito a raggiungere o meno gli obiettivi quindi questa abbiamo un bilancio che è stata erata con i miei pesi con il peso dei miei vestiti possiamo chiedere a una persona di controllare questi due mesi è stato un bel viaggio e questi sono alcuni strumenti che ho utilizzato per trasformare una crisi il primo è chiedersi qual è il vero problema perché come nel mio caso avrei potuto cambiare capo avrei potuto cambiare brand marchi azienda o anche città ma il problema poi sarebbe tornato perché il vero problema era che non mi piaceva quella carriera questo esercizio dei valori può aiutare a superare a capire il vero problema di molte crisi e poi cambiare il proprio percorso mentale quindi creare un pulsante di aiuto reale o virtuale e questa tavola dei desideri che mi ha aiutato tanto a focalizzare a trasformare l'energia da negativa a positiva perché sapete io so che avrò altre crisi non posso evitare probabilmente non posso neanche evitare che voi le abbiate però so che si possono attraversare anzi si possono trasformare quindi vorrei chiedervi come trasformerete la prossima prossima crisi quale sarà il vostro 79 Pa mogu se io grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti